Ben ritrovati, vi presentiamo le previsioni meteomarine per mercoledì 15 giugno. È previsto cielo sereno con assenza di precipitazioni. Temperature intorno ai 25 gradi nelle località marine e 27-28 gradi nelle città con picchi di 30. Le temperature minime non supereranno i 23 gradi nell'introterra salentino. I venti spireranno prevalentemente da sud e da sud-est. Sulla penisola salentina invece arriveranno da sud-ovest. L'intensità sarà moderata variando dai 10 ai 16 nodi. Passiamo ora alle condizioni del mare. Temperature dell'acqua tendenzialmente stabili durante l'arco della giornata intorno ai 23 gradi sul mar Ioneo. Sull'Adriatico, temperature più basse varieranno tra i 20 gradi e i 22 gradi. Mare è generalmente mosso nel Golfo Tarantino, con onde di altezza massima di circa 90 cm nel pomeriggio. Lungo la costa adriatica il mare sarà poco mosso. Vi ringraziamo dell'attenzione e vi aspettiamo per le prossime previsioni. Buona giornata!